Un allevamento di cozze, cozzara. Le cozze sono appese a dei fili legati a quei galleggianti, occupano delle enormi estensioni di mare, queste sono ben ordinate, organizzate. Il segnale che abbiamo visto segna la delimitazione di questo spazio dedicato appunto alla crescita delle cozze. Le cozze che sono molto importanti ma che a noi interessano anche dal punto di vista della prevenzione delle malattie a trasmissione orofecale o più correttamente a trasmissione feco-orale. Ed eccoci ancora qua. Non siamo più in mezzo al mare. Siamo qui perché vorrei parlare a voi che state per andare in vacanza, state per andare in vacanza in posti esotici in Asia, in Africa, in Sud America, in Centro America. Vorrei parlarvi di uno dei rischi che si corre quando si va in vacanza. Sto parlando delle malattie a trasmissione orofecale o feco-orale. Sono malattie che si... ci si può ammalare di queste malattie perché si introducono degli alimenti, alimenti o acqua, che sono state inquinate da le feci. Noi sono cose che a fatica riusciamo a concepire. Perché? Perché noi abbiamo gli acquedotti e noi abbiamo le fogne. E quindi difficilmente le acque che scorrono nelle fogne vengono a contatto con le acque che scorrono negli acquedotti. Ed è per questo che grazie alla sanificazione, all'organizzazione delle nostre città in Italia, malattie come il colera, malattie come il tifo, sono sconosciute. Pressoché... no, pressoché... sconosciute. Nessuno si ammala di colera in Italia da molti, ma molti e molti decenni. Il colera, ecco, di questa malattia vorrei parlarvi. Che è una malattia presente in molte zone del mondo. E allora, se volete andare in vacanza in Birmania, in Kenya, in Sud America, dovete informarvi se in questi posti, se in queste nazioni e specificatamente poi nei luoghi che volete visitare di queste nazioni, il colera c'è, cioè è endemico. Il colera è una patologia molto grave. Causa disidratazione dovuta a una diarrea profusa, vomito e nei casi più gravi compromissione di tutta la salute negli aspetti più generali e quindi anche la morte. Si può curare naturalmente, si può curare con degli antibiotici, si può curare naturalmente reidratando la persona, nella quale la persona perde moltissimo, moltissimo liquido. E quindi cosa dobbiamo fare? Beh, prima di tutto informarci del paese, se c'è il colera, dopodiché andare all'OSL e vedere cosa ci possono dire. Ci si protegge in due modi. Il primo, classicamente, il vaccino. Esiste il vaccino contro il colera. Esistono più tipi di vaccino, il vostro medico vi suggerirà quello più opportuno. Ma attenzione, questa è la cosa più importante. Il vaccino da solo, come a volte succede, non è in grado di proteggervi completamente nei confronti di questa patologia. E quindi è assolutamente necessario assumere dei comportamenti virtuosi da questo punto di vista. I comportamenti virtuosi sono semplici da comprendere. E sono quello di non utilizzare l'acqua corrente, l'acqua che viene dal rubinetto, l'acqua teoricamente potabile, che in Italia è potabile, su quello siamo tranquilli, per fortuna. Non utilizzare, non mangiare alimenti che potrebbero essere stati contaminati dall'acqua, l'insalata, alimenti crudi, frutta che non possa essere aperta e mangiata all'interno, carne o frutti di mare o pesci non adeguatamente cotti. Il video che vi ho fatto vedere all'inizio sulla cultivazione di cozze al largo di Chioggia, quindi nel mare Adriatico, naturalmente ci fa vedere delle cultivazioni che sono assolutamente sane, delle cultivazioni che non hanno assolutamente il rischio di essere inquinate o portatrici del vibrione della colera. Ecco, il contrasto che vorrei fosse chiaro. Perché? Perché l'acqua nei nostri mari, grazie al fatto che esistono le fogne, i depuratori, che esiste tutto un sistema di controllo anche su eventuali casi di colera importati dall'estero, di persone che va all'estero e poi torna con il colera, bene, ci garantisce al 100%. Diciamo che era un escamotage per far vedere. Ora io vi concludo facendovi, indicandovi, per chi fosse interessato, due libri che sono molto importanti per quanto riguarda la storia di questa patologia. Il primo è un librettino, si chiama Vibrio, e questo librettino raccoglie tre interventi di vari personaggi dell'Ottocento relativamente al colera. Il colera è in Gran Bretagna. Fra questi vorrei sottolineare quello di John Snow, che è stato un medico che per primo, applicando criteri epidemiologici, cioè lavorando un po' come i detective, è riuscito a Londra a intuire qualcosina sulla modalità con cui si trasmette il colera, non sulle caratteristiche specifiche del libro. Ma su come si trasmette. Ha capito che l'acqua, in particolare l'acqua del Tamigi che usciva da alcune fontane, era in qualche modo la portatrice di questa patologia. Il secondo libro che vi consiglio, di Eugenia Tognotti, ecco qua. Il mostro asiatico, storia del colera in Italia. E questo si riferisce agli anni all'Ottocento, anche in questo caso fino alla fine dell'Ottocento, e parla dell'evoluzione, dal punto di vista scientifico, politico, sociale, del colera in Italia. Che ha avuto una storia che è molto importante, perché in Italia migliaia e migliaia e migliaia sono morti di colera. Fino a quando non si è riusciti a capire la modalità per combattere, il colera è stato una patologia estremamente grave. Bene, con questo vi faccio gli auguri di divertirvi in salute, nei paesi dove andrete a fare le vostre vacanze, se sono paesi a rischio, andateci, l'importante è essere consapevoli di quello che si fa, consapevoli degli strumenti che ci sono per proteggere la propria salute.